Eccoci qui come state, un saluto a tutti ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi se amate il Milan, se avete il Milan nel cuore, evviva Milanello, iscrivetevi anche al mio canale personale che vi metto qui sotto nel link in descrizione, potete andare e tornare in 10 secondi, avete fatto tutto e io vi ringrazio davvero, grazie grazie grazie, siamo a un passo dai 22.000 iscritti. Allora, buon weekend che insomma oggi inizia, partiamo subito con una serie di notizie, mi sono assegnato tutto, innanzitutto ecco, ciao non andrà agli europei, ciao quindi non viene convocato dopo una stagione obiettivamente deludente e devo dire che per noi non è una brutta notizia, perché dove essere stare, oggi non vedo grandi movimenti in uscita, sarebbe un giocatore che non va a fare l'europeo e che parte subito con il raduno senza dover poi magari aspettare che esca la Germania che è una nazionale che potenzialmente può anche fare strada fino in fondo. E quindi, visto che avremo già un nuovo allenatore, è importante che questo lavori con più giocatori possibili e uno di questi sarà appunto ciao che partirà dal giorno del raduno e non avrà ostacoli. Detto questo, curiosità al momento, non farà gli europei nemmeno Joshua Zirze che non è stato convocato, ora un infortunio però non dovrebbe essere nulla di serio, non è stato convocato per scelta tecnica, è stato proprio poco, una volta era stato convocato ma poi si era fatto male e questa, per chi andrà a prenderlo, sarà una bella notizia, nel senso che anche lui appunto in un'altra squadra avrà un po' più di tempo per ambientarsi, inserirsi e non avrà la difficoltà maggiore di arrivare magari alla terza di luglio o magari a fine luglio, dovendo fare anche le vacanze e partire appunto da zero. Parte da zero ma un mese prima. Se arriva da noi, questa è una notizia che sinceramente non mi dispiace. Veniamo alle novità, adesso andiamo sul discorso panchina. Innanzitutto però diciamo che sulla formazione di domani potrebbero esserci anche qui scelte sorprendenti. Fuori Leao ancora una volta come l'ultima, che poi è entrato fatto molto bene, quindi potrebbe essere la chiave giusta, ora diventa un panchinaro ogni volta che entra fa bene. Scherzi a parte, dovrebbe escludere Leao con anche l'esclusione di Giroud, che sembra avere un po' staccato sinceramente. Tra l'altro molti se la sono presa perché ha riempito di profili nel profilo social con le sue immagini vestito da giocatore di Los Angeles FC. Forse poteva aspettare qualche tempo. Detto questo, un eterno grazie a Giroud. Non gioca questa per magari provare a dare tutto nell'ultima gara, in cui sicuramente sarà titolare quella della prossima settimana, contro la Salernitana, l'ultima in casa, sperando che possa fare doppietta e arrivare a quota 50 gol. Giocherà Jovic, che è un passo della doppia cifra. Poi vediamo, potrebbe cambiare qualcosa ovviamente nel corso della giornata. Con un, ricordiamoci, un infortunato, quindi Okafor a sinistra, Pulisic a destra e in avanti Jovic. Un attacco diverso. L'esclusione di Leao è perché è soltanto arrivato un po' stanco, perché sta pensando all'europeo, o perché Pioli non guarda in faccia nessuno. Diverse idee, diversi pensieri. Detto questo, una seconda panchina consecutiva per Rafa Leao sarebbe sicuramente, insomma, clamorosa, curiosa, quantomeno. Poi, andiamo sul capitolo panchina. Nel video di questa mattina abbiamo detto, raccontato, l'indiscrezione arrivata a Fabrizio Biasin, collega di libro, opinionista, insomma, anche a QSUS e non solo, secondo cui il tecnico del Milan è già stato individuato e sarà un nome importante. Ebbene, ieri sera c'è stato poi un evento, a cui ha partecipato anche Daniele Massaro, che è una figura sicuramente istituzionale nel Milan, è comunque un dipendente di Casa Milan, oltre che un grandissimo ex calciatore, e che cosa ha detto? Una frase che ha lasciato tanti dubbi. La leggiamo, la interpretiamo insieme e veniamo poi alle novità. Lo dite voi che l'avventura di Pioli al Milan è finita. Il mister ha ancora un anno di contratto, l'area tecnica sta ragionando per capire se andrà avanti con Pioli o se deve esserci un cambio. Pioli ha fatto cinque anni incredibili. Ok? Vista così, la frase su l'area tecnica sta ragionando per capire se andrà avanti con Pioli o se deve esserci un cambio, lascia spazio a... Ma non è che magari alla fine resta Pioli? Non è che magari volevano un allenatore, questo non viene, si accorgono che sono profili mediocri, e alla fine ti ripresentano Pioli? Io credo che ormai non si possa più tornare indietro. Credo che il ciclo sia finito, che la rottura sia ormai totale, netta. So che nessuno lo vuole più anche in società e quindi credo che questa frase di Daniele Massaro sia stata semplicemente perfetta a livello strategico anche perché non è lui che decide e secondo me ne è uscito molto bene con un grande dribbling, anche se non era la specialità della casa quando giocava. Però è stato rapace in area di rigore e... poi qualcuno inizia a dire ma piuttosto di quello mi tengo Pioli, ok? E può essere vero come valore assoluto però è meglio un Pioli a fine ciclo che si sta trascinando al Milan o un tecnico magari potenzialmente meno bravo ma inizio ciclo? Questo poi lo vedremo con i fatti. Io vorrei un allenatore più bravo e a inizio ciclo. Non un allenatore magari un po' meno bravo sulla carta ma inizio ciclo. Però ormai con Pioli secondo me è finita non ci sono possibilità. In questo senso rispondo ai tanti che mi hanno fatto questa domanda anche nei commenti. Tra l'altro Stefano Pioli ecco oggi la notizia è che il Napoli sembra essere un po' più su Gasperini davvero quest'anno c'è un bailan pazzesco a livello di panchine e Pioli alternativa il Bologna su Sarri ma c'è anche sullo sfondo Pioli per noi sarebbe importante che Pioli sia a casa in modo da risparmiare 9 milioni di euro all'ordo il prossimo anno se non sono 9 milioni di euro sono magari che ne so comunque 6 se gli dai una buona uscita più più bassa o 5 attenzione perché il Fenerbace nelle ultime ore ha parlato con l'agente di Pioli per capirne disponibilità possibilità di andare a ingaggiarlo Fenerbace nel quale tra l'altro c'è Krunic che avrà magari consigliato curiosamente dovesse poi concretizzarsi al momento siamo soltanto a livello di sondaggi si potrebbero ritrovare al Fenerbace Pioli e Krunic certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano dice una bellissima canzone al di là del dove va è importante che vada e che vada a avere un ingaggio che il Minari risparmi i soldini perché poi bisogna fare i conti con una società che farà un mercato incassando soldi con incassi per poi reinvestirli anche se ne avevamo parlato erano stati smascherati potrebbero spendere soldi senza cessioni e sarebbe sicuramente le loro possibilità economiche e finanziarie anche a livello di fair play finanziario che per qualche tempo è stato un po' anche una scusa di tanti non soltanto al Milan proseguendo poi nel video andiamo poi su un'altra novità ripeto l'indiscrizione il video è ancora lì questa mattina io spero tanto che possa essere quello il video mi ha scritto anche Fabrizio della Giustina ma dimmi chi è qualche inizio in più sinceramente no ho chiesto Fabrizio Biasini ma dammi qualche indiscrizione in più qualche inizio in più e lui stesso mi ha detto io non ho il nome so solo che a me è una persona di quale mi raccomi fidocecamente nel mondo del calcio mi ha detto il Milan ha scelto un attore è un nome importante un grande nome non so nulla di più se non le ipotesi che abbiamo fatto questa mattina insieme nel video e nei commenti che avete scritto però attenzione perché ci sta succedendo anche dell'altro innanzitutto vi dico che Sergio Conseisau martedì ha incontrato il Marsiglia e ha declinato l'offerta questo ci dice due cose che Conseisau aspira a qualcosa di diverso ma se lo ha incontrato significa che non l'ha chiuso con nessuno la seconda cosa che ci dice è che evidentemente il Marsiglia non è più così sicuro di andare a chiudere con Fonseca e quindi sembra sempre restare il nome in proposition per il Milan c'è un effetto domino che può essere davvero interessante questi due elementi però nel frattempo è successo qualcos'altro sta succedendo davvero di tutto in termini di allenatori con Tuchel che dovrebbe raffinare stare al Bayern Monaco usiamo sempre il condizionale ma la vera novità delle ultime ore della tarda serata di ieri arriva dalla Spagna dove tutti sono concordi nel sostenere che a sorpresa grande colpo di scena in terra spagnola finisce l'avventura tra il Barcellona e Xavi che aveva incontrato la porta si era detto andiamo avanti insieme nel frattempo qualcosa è successo e le notizie che arrivano dalla stampa spagnola ci raccontano che è il Barcellona che non vuole più proseguire con Xavi questo può aprire a uno scenario che potrebbe portare Xavi al Milan Xavi sicuramente era stato contattato dal Milan era tre settimane fa tra le idee del Milan poi però incontra la porta andiamo avanti insieme e salta cosa è successo nel frattempo la porta si vuole intestare questa separazione per non passare per quello che magari è stato scaricato perché scopre che lui magari aveva l'accordo con qualche altro club e l'aveva tenuto nascosto oppure è successo qualcos'altro di fatto ecco nel borsino allenatore Milan secondo me torna a comparire il nome di Xavi e il borsino è verde perché prima l'avamo tolto un po' tutti Xavi che ricordiamo ecco può essere considerato il grande nome come giocatore sarebbe era considerato un nome pazzesco uno dei giocatori più più forti dell'era moderna in quel ruolo come allenatore lui ha avuto una carriera fin qui in Europa con il Barcellona ha vinto una supercoppa di Spagna e un campionato spagnolo la Liga che quando c'è di mezzo il Real Madrid non è mai facile vincere vero è che sei al Barcellona poi ha vinto in Qatar delle cose lui al Barça subentra nel novembre 2021 e arriva secondo l'anno dopo vince e quest'anno è in corso ma sapete la Liga l'ha vinta il Real Madrid profilo che poi gioca con il 433 che potenzialmente è uno dei due moduli che Emina vuole adottare anche nel prossimo anno 433 o 4231 quindi ci sarebbero anche qui delle conferme o comunque delle condizioni che si possono sovrapporre giovane si ha 44 anni è giovanissimo ha valorizzato giovani si al Barça ha valorizzato giovani ha fatto giocare anche 16 anni come identikit potenzialmente potrebbe essere lui a me non stuzzica un granché ve lo dico sinceramente lo preferisco ad altri nomi ecco secondo me è meglio di Fonseca però non lo preferisco ad altri nomi e poi si è rincartato un po' nella polemica con l'Inter vero che aveva ragione l'Inter era passata con un braccio clamoroso di Dumfries però è uno che magari se serve si lamenta ecco detto questo attenzione a questo possibile colpo di scena cioè Xavi Milan rappresentato dalla Sea Talent e in rottura sorprendente con il Barcellona con cui ha fatto quest'anno 23 vittorie 7 pareggi 5 sconfitte in Champions 6 vittorie 1 pareggio 3 sconfitte in Coppa del Re 2 vittorie 1 sconfitta in Supercoppa 1 vittoria 1 sconfitta 104 punti considerando la media punti considerando tutte le competizioni 2,08 a partita col Barça ditemi che ne pensate se vi piacerebbe se potrebbe essere il grande nome come identichite giovane a valorizzare eccetera internazionale ci saremmo attenzione ditemi di lui ditemi di quelle parole di Massaro di Pioli di Leo in panca che ne pensate commentate numerosissimi qui sotto lasciate un bel like se amate al Milan iscrivetevi da questa parte attivate la campanella anche voi che siete già iscritti ricordatevi di attivare la campanella e iscrivetevi al mio canale personale che vi metto qui sotto nel link in descrizione grazie per chi lo farà ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti anche molto sfiziosi importanti sul calcio mercato ma non solo un abbraccio grazie a tutti grazie a tutti